Io sono pronto. È ormai diventato un appuntamento fisso per Caserta in modo particolare, ovvero il Campus Salute, noi siamo con il responsabile, il dottor Rosario Cuomo. Dunque, ci risiamo, l'appuntamento è per fine ottobre. Sì, torna alla prevenzione, mi piace dirlo perché fondamentalmente noi lavoriamo su questo progetto da 5 anni, insistiamo sull'idea della prevenzione, in questi tempi si parla tanto di prevenzione, soprattutto prevenzione oncologica ed è importante che si sottolinei l'importanza della prevenzione, prevenzione primaria, prevenzione secondaria. Noi lavoriamo su entrambi i campi perché facciamo prevenzione primaria attraverso anche dei momenti educativi, somministriamo attraverso anche degli incontri, anche brevi convegni, ma le nostre stesse operazioni tendono a somministrare quella che è la cultura della prevenzione. E poi facciamo prevenzione secondaria, che fondamentalmente significa incontrare i cittadini, di visitarli e stabilire se hanno particolari segni che possono predire o comunque slatentizzare, mettere in evidenza problemi, malattie e problemi tumorali. Ecco, dottor Cuomo, vogliamo fare un invito alla popolazione casertana? Sì, allora, tutti a fare prevenzione, quindi fare visite diciamo in varie specialistiche, il 27 e il 28 ottobre, il 27 nel pomeriggio e il 28 la mattina all'istituto, al liceo Manzoni di Caserta, ecco questa poi è una cosa importante, i licei, le scuole ci aiutano proprio a fare questo, quindi 27 e il 28 a Caserta, al liceo Manzoni, visite alla popolazione, visite in molte specialistiche. Ecco, e non finisce qui perché proprio il 28 pomeriggio lei riceverà un premio, un premio che viene dato a personalità che sono molto attive nel sociale, nel mondo della sanità e oltre ancora. Il premio L'Alfiere? Sì, L'Alfiere, diciamo nella vita civile, nel servizio civile sostanzialmente, è una cosa che mi è giunta così improvvisa, ovviamente fortemente gradita, però devo sottolineare che questo premio viene dato a me, che sono fondamentalmente il portatore di questo titolo di coordinamento del campus salute, ma deve essere dato a tutti coloro che nel campo fanno volontariato nell'ambito del campus salute, quindi ai colleghi medici, ma anche ai colleghi non medici che ci aiutano tantissimo nel fare questo tipo di lavoro. Quindi il premio è per tutto il campus salute, per tutti coloro che lavorano nel campus salute.